...e alla famiglia di Ciafidi che prima della partita veniva a mancare e ci tenevamo particolarmente e gli mandiamo un grosso abbraccio. A questo punto però bisogna pensare nuovamente alla partita di domani. Nell'eventuale ipotesi di un impiego di Santini il modulo ovviamente rimarrebbe il 4-3-3? Ma vediamo. Dovremmo partire con questo assetto lattico e vediamo durante la partita. Lui sta bene, come Santini si è sempre andato bene a posto? Sì, si è sempre andato bene, anzi ne abbiamo approfittato nelle due giornate di squalifica per cercare di fare un po' di preparazione su di lui per prepararlo poi al rientro. Lei ha visto sicuramente la partita di giovedì sera, che cosa l'ha colpita dalla Lucchese? Spera che però segna quel difensore a te e subisce doppia rimonta. Ho visto sia la partita contro la Pistoiese che contro la Carrese, dove il mister Favarin ha adottato due moduli, un 3-5-2, un 4-3-3. Quindi vediamo che squadra incontreremo, di sicuro è una squadra, conoscendo anche un po' il mister che ho avuto all'Andrea, è una squadra sicuramente molto agguerrita, che gioca molto su duelli e sa sfruttare gli episodi. Quindi noi dobbiamo stare molto, ma molto attenti ai particolari, perché domani sarà sicuramente una partita molto tosta, molto dura. Noi dobbiamo farci trovare pronti, soprattutto nel vincere i duelli. Torniamo sempre ai giocatori singoli. Del vino ha i 90 minuti nelle gambe dopo una settimana in più di lavoro, i 20 minuti della settimana scorsa, oppure è ancora in fase di preparazione, mettiamola così? Ma è un giocatore che si è allenato da sola a casa, è rientrato, è venuto da noi. Il campo determinerà se ha i 90 minuti nelle gambe nella sua tenuta, se sarà chiamato in causa dall'inizio, se subentrerà, questo lo determina il campo e la sua tenuta atletica. Però è un ragazzo serio, un ragazzo che si sta allenando bene, quindi è a disposizione, vediamo se è utilizzato dal primo minuto. Lui per caratteristiche può fare l'esterno e l'estero diciamo puro, 4-3-3 via? Sì, lui ha fatto anche a Bicei, ha fatto il quarto, il quinto nel 3-5-2, ho il terzo centrale di destra, quindi è uno che sa ricoprire più ruoli e quindi l'acquisto di Del Vino a di là che è giovane perché è d'utile e ci dà la possibilità di poter cambiare assetto tattico nei momenti in cui gioca dal primo minuto, poter cambiare assetto tattico perché sa ricoprire due ruoli. L'altra settimana lei aveva detto non ci entusiasmiamo troppo per la vita e non ci demoralizziamo troppo per un nuovo risultato negativo, la reazione che ha trovato da martedì dopo la partita con l'impropriacenza, dopo i 30 minuti finali di voglia di recuperare la fatica della prima ora. Sì, ma guarda, io ho rivisto la partita 14 volte. Sicuramente non c'è stata l'intensità, quando parlo di intensità parlo anche in fase di possesso palla perché comunque non abbiamo incontrato la Juve dove la Juve per concetti porta tanti uomini sopra linea palla quindi c'erano tanti spazi per poter ripartire. Il proprio scienza ha giocato tutti sotto linea palla però se andiamo a rivedere la partita l'unica azione che hanno fatto loro è sul colpo di testa di Scardina, su palla persa nostra e i gol sono stati fatti su errori nostri. altrimenti io credo che loro in fase propositiva stanno facendo un po' fatica come la stavamo facendo noi perché era una partita un po' chiusa, noi non dobbiamo regalare gol perché perdere una partita col proprio scienza regalando tre gol e avendo 11 minuti di blackout noi non ci lo possiamo permettere ma credo nessuna squadra. Poi ho visto una grande reazione, potevamo riaprire la partita ma non funziona sempre così, nel senso con i ma la frase storica non si conclude niente, noi dobbiamo rimanere in partita, Serpù non facendo una partita meravigliosa ma dobbiamo rimanere in partita per 90 minuti e in particolare l'attenzione e la concentrazione la devi fare da padrone, altrimenti se giochi e se sbagli ci sono giocatori avversari come Nole, come Scardina in grado di farti male e questo è successo contro il proprio scienza, ma se devo dire che il proprio scienza stava facendo la partita, io l'ho rivista o ci vedo male io, ma non è così, anzi hanno fatto gol nel momento in cui noi nei primi 10 minuti del secondo tempo stavamo nella vita a campo avversario, abbiamo conquistato due calci d'angolo, una punizione, l'azione di Panizzi con Valtese dove ha messo palla dietro, quindi stavamo accelerando un po' di più, abbiamo preso gol nel momento tra virgolette migliore nostro, ma sono regali che noi non possiamo permettere. Il rischio di trovare comunque una squadra che starà abbondantemente dietro alla palla c'è anche domani? Ma ci sarà nell'80% dei casi, le partite si determinano soprattutto in casa, dobbiamo avere la pazienza, la pazienza sicuramente nel far circolare la palla un po' più veloce, trovare gli smarcamenti e avere la pazienza nel trovare l'imbogata giusta e sicuramente riattaccare un po' più gli spazi, la profondità perché quando una squadra si difende sotto la linea palla devi cercare di farla correre verso l'aeroporto e mai dare la possibilità di essere una squadra prevedibile perché abbiamo perso dei palloni anche al primo tempo molto semplici, però la prerogativa di domenica scorsa era non forziamola a giocare perché loro giocano sull'errore e in qualche momento c'è stato l'errore nel voler cercare per forza la giocata tra le linee e gli spazi erano intasati, erano corti e quindi dovevamo giocare un po' più in ampiezza e sfruttare il 2 contro 1 esterno. Nel momento in cui l'abbiamo fatto anche nel primo tempo, poi è vero che c'era Panizzi che è giocato in un ruolo suo ma a piede opposto, quindi facevamo fatica ad arrivare in ampiezza perché giustamente lui come postura del corpo e nella corsa naturale cercava di andare verso dentro con il piede più forte e quindi abbiamo trovato un po' più difficoltà. E poi abbiamo sofferto un po' la fisicità di Calomò e il quinto di Destra dove abbiamo fatto un po' più fatica ad accorciare. Però se mi devo ricordare delle azioni a propiacenza costruite dal basso o nella manovra non me ne ricordo. E quindi non ci possiamo permettere noi di regalare punti preziosi che potevano anche il punto, possono muovere la classifica e continuare a dare un filotto possibile. Il fatto che la Lucchese abbia giocato in settimana può essere un vantaggio, può essere uno svantaggio? È soltanto un dato di fatto? Ma guarda, abbiamo aspettato talmente tanto per giocare che io credo che in questo momento più si giochi meglio è perché la possibilità di dare continuità, di fare il minutaggio, la Rosa Lucchese non si limita solamente a 11 giocatori, avranno anche loro 23-24 giocatori dove magari ha fatto riposare qualcuno in vista della partita di domani e quindi secondo me in questo momento ci tenevo io anche io a giocare con la Provercelli per dare continuità e per giocare. Per dimenticare magari subito. Sì, ripartire subito, ma vi ripeto, la cosa che ho detto ai ragazzi che al campo io voglio vedere sempre ragazzi quando si perde si vince mantenere sempre lo stesso entusiasmo che non vuol dire fare gli giocherelloni, vuol dire avere un equilibrio nell'aspetto mentale perché altrimenti passiamo dall'euforia alla depressione in un nanosecondo e questo non aiuta alla crescita. Essendo una squadra giovane bisogna mantenere un equilibrio, essere incazzati sì ma soprattutto quando si perde si perde così ma saper ripartire subito nell'imediato. E questo lo ha visto, questo entusiasmo come lo ha definito in questa settimana? Ma assolutamente sì, l'ho visto, i ragazzi non ho da dire niente, io sono fiducioso perché nella crescita dei ragazzi, sono fiducioso nel gruppo perché ho visto una bella reazione, ho visto, ma anche prima del Pio Piacenza c'era intensità negli allenamenti, c'era la voglia di portare una continuità. Purtroppo non ci possiamo permettere i cali di concentrazione o giocate di sufficienza perché questi poi portano a compromettere un risultato che secondo me la partita poi si andava, potevamo pure noi determinare alcuni episodi e l'hanno determinata loro con una nostra pecca di concentrazione. Quindi l'unica cosa che ho detto ai ragazzi è questa qui, non diamo vantaggio agli avversari. Poi l'errore di concetto ci può stare, ma l'errore di sufficienza non è. Giulia potrebbe essere di nuovo titolare? Giulia potrebbe essere di nuovo titolare, io non sono un allenatore che se sbaglio un ragazzo lo condanno perché sarebbe, se no non c'è il progetto. Se parliamo di progetto parliamo anche di giovani che devono sbagliare. Purtroppo si sbaglia, Giulia è un giocatore con la Juve, ha fatto una bellissima partita e fino al 65esimo era uno dei migliori in campo perché era il giocatore che mi stava determinando anche le giocate. È un ragazzo che deve crescere, è un ragazzo che deve dare continuità nei 90 minuti. Ma di sicuro ha la mia massima fiducia che lui si deve comunque guadagnare ogni settimana nella crescita e di sicuro non voglio vedere gli errori che ha fatto Domenica, ma la fiducia è totale. Anzi, nel momento di difficoltà bisogna aiutare i giovani perché altrimenti passiamo sempre dal giudizio a mente calda dove anche noi chiediamo giudizi. Io comunque sono chiamato a dare dei giudizi a fine partita e a fare delle valutazioni. Se io passo a dire a Giulia, bravo, è fatto perdere la partita, bravo, è fatto perdere la partita, secondo me non sono in linea con il progetto che abbiamo sposato all'inizio, è là.